Ciao Dario, buongiorno. Allora dopo questi prima due giorni di conferenza internazionale Mgoldex, quali sono le tue prime impressioni? Allora, le impressioni sono sicuramente positive, ringrazio soprattutto agli amici, ma soprattutto a tutti i protagonisti di questa convention che sono venuti da tutto il mondo, di avermi dato questa opportunità, ma soprattutto di avermi dato la possibilità di conoscere questa nuova forma di investimento. Allora tu quindi sarai pronto come tutti noi a sviluppare il network e quindi a portarlo e a dare questa opportunità anche a tanti altri amici, vero Dario? Sicuramente, perché questa due giorni ha solo alimentato entusiasmo e sicuramente ha determinato la cancellazione di un unico vocabolo, pessimismo. Perfetto, allora anche tu come noi che fai parte del Ricco e Libero Team, ma oltre al Ricco e Libero Team ci sono tanti altri team che stanno nascendo in Italia, siamo pronti a sviluppare il network, anche perché il nostro network, il nostro investimento si basa soprattutto sull'acquisto di oro 24 carati, oro da investimento. Quindi diciamo insieme quello che è il motto aziendale, Dario, perché GOLD IS MONEY! We trust in M-GOLDX! Become a client now, in your country! M-GOLDX GOLD M-GOLDX M-GOLDX